a play law ma che stai a fa' ricordate che i squali stanno arrivare e benvenuti in questa nuova trasmissione e allora oggi parleremo nuovamente del duo più famoso d'italia per quanto riguarda il discorso seduzione ma si può si può abbiamo vinto possiamo vincere e abbiamo vinto ovviamente ricordiamo che il 21 gennaio ci sarà la live con gli avvocati per parlare proprio dati alla mano sentenza alla mano di tutto tutta la vicissitudine processuale per chi non sapesse abbiamo avuto una causa il prossimo gennaio 2023 parleremo della causa che è nata per questa live cercheremo di regolarci semplicemente sono apparsi in tv quindi sono andati oltre il web su canale 5 con uno spot e anche striscia la notizia il buon Ricci stanno a far carriera top investitori e imprenditori volevo dire top influencer però è particolare sta cosa perché se comunque fanno un buon lavoro e poi vengono chiamati a destra e manca questa è la conferma significa che effettivamente fanno un bel lavoro perché vengono chiamati in televisione eccetera dici che striscia e canale 5 sono un bollino di qualità questo lo stai dicendo tu però io mi interrogo su questo dico se vengono chiamati così a destra e manca ci sarà una motivazione sono curioso di ci sono anche delle criticità immagino ma chi è che guarda la tv? giusto cane pazzo ormai guardiamo tutti i cicalone tv sbagliando è successo tra l'altro anche un fatto abbastanza particolare una sorta di prediction del cerbero il buon ale della fuffa ieri ha beccato una gang di spanish perlomeno così loro si sono dichiarati ma gli ha fatto schifo beccare una gang? a quanto pare l'atteggiamento è stato diverso Gianluca forse in quel momento era lui il diverso però vediamo in Maranza di Latina andiamo andiamo Patrizia è rimorchiato top l'ha fatta per una volta allora su 4000 una l'ha trovata allora ero in live a Venice Beach quando dei Crips io adesso non sono assolutamente esperto di queste cose però l'ho vista la clip non credo siano Crips perché ditemi se sbaglio non hanno una bandana rossa giusto? i Crips c'hanno una bandana rossa? sono rossi i Crips? non so quell'altro i Blood qualcosa pur i Blood sono rossi però i Crips oddio che so di cosa parlate? blu è vero blu dove avete conosciuto questi nomi? dipende che evoluzione so perché poi se si evolvono non mi dico chiudo una canzone di Targen io non sono spingi di GTA la so sta cosa però quanto pare non la so molto bene sono cose che non ho mai sentito interessante grande ulli per il sabbolo sono gang di Los Angeles comunque qua Ero in live Ale della Fuffa si è imbeccato in una in una di loro cioè tipo quando in GTA vai nel quartiere della gang nemica tutto viola esatto stava qua in questa sorta di luogo per skate The Warriors pare tipo allora Ero in live questo è caricato proprio da Ale sul suo TikTok Ero in live a Venice Beach quando dei Crips sono blu ma in che senso tu non mi stia riprendendo I'm not even you no 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 la riprende lei vedi eh però quando è inizialmente l'ha inquadrato eh lo so quando gliela ha detto però vabbè ma in che senso bro no 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 what I'm not even you ok you're gonna say it like that no no sorry I don't want to be a con where are you from? Italy you right here yeah not here lui dice i Crips di Venice boh non lo so magari si era messa una ferpa rossa per Goliardia io poi queste cose non capisco nulla lui dice sai chi sono eh io avrei detto no scusate forse mi avrebbero menato io avrei detto sì perché su G ITA ah vedi i Crips intanto me sa che te menano uguali è meglio se ve ne andate si conoscono un po' dei nomi di di sti gang è meglio se ve ne andate ma per chi intimidazione eh perché sì perché perché sono delle persone del cazzo sono dei depistelli quindi sono dei criminali dei tossici no lo so su GTA piavate un sacco di schiavi comunque poi a patto che questo non sia ammillantatore non è detto ovviamente però questa è l'intimidazione andatevene se no comunque è una cosa molto grave ovviamente tutte le altre persone che stanno là perché non se ne devono annare capito forse per la telecamera io avrei fatto gli unici con la videocamera io sai che avrei fatto al posto suo F2 estraiarma poi la era ragazza poi andava benissimo il resto slash TH poi andava tutto a rallenti mentre lo fai slash TH e ha fatto è da dire che non erano dei barboni comunque no senza fissa di mora senza una casa ma infatti non mi è sembrato schifato più intimorito direi tiri fuori l'arma tutto il mondo va a rallentatore con l'automira poi gli punti la testa in un nanosecondo e la situazione è risolta è così che funziona a LA siamo LA è un gioco poi per la polizia fai L1 L2 R1 R2 su giù su giù su giù quadrato come era? e abbiamo fatto in chat ha scritto ma di che parlate è normalissima in America vabbè è normalissima ma comunque grave è un'intimidazione al di là del fatto che ci stia sul cazzo semplicemente finiamo la clip vedete come la vita è bislacca no? colui che si era messo su un gradino superiore in questo momento è inferiore in questo momento il gradino è lui con un piede sopra la sua testa è facile no? passare da privilegiato a vittima purtroppo poi ovviamente è un episodio comunque grave cioè mi sarei sentito anche io fortemente intimidito poi sta pure un po' isolato la Venice Beach perché la strada insomma perché lì c'è sta tutta quanta sabbia e poi c'è la stradina pedonale ma non è quella del GTA comunque è uguale Venice Beach no vabbè ma Venice Beach la conosco no Venice Beach la conosco proprio si è stato no magari è uno dei miei sogni la Venice Beach la GTA tipo in miniatura una versione come quella che vuole andare in Giappone è uguale l'ho vista su Google Maps tramite molti video però su GTA è identico oh 37 mesi Piromaniac Hellfire voi ricordate Piromaniac Hellfire 37 mesi si scorre un po' sopra vorrei un attimo capire perché c'è una persona col verificato che dall'inizio della live comincia a spammare no no sotto 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 sta cominciando a spammare delle cose una simp di Tutubi la waifu di Tutubi per me Simone sarai sempre sopra il gradino ma tu chi cazzo sei cosa vuoi dal mio amico abbiamo notato che c'era questa qua con il verificato che ha cambiato il suo nome con la waifu di Tutubi e io subito ho detto questa è una A-W A-W voi sapete quello che significa e quindi non le daremo spago ma la domanda è il verificato te lo sei comprato oppure hai quittato miseramente ma infatti io non la conosco e questo è l'approccio peggiore che puoi fare al sottoscritto te lo dico Papale Papale mi ricorda l'ho detto pure prima a loro la scena della scoiattolina che si innamora di come si chiama di semola di semola che si trasforma in scoiattro nella spada della roccia lui fa no no io sono un'altra specie io non posso stare con te poi ho visto quella parrucca rosa e ho detto che non potremmo mai fare nulla penso vabbè comunque singolare un approccio sono stato troppo cattivo un approccio magari una persona incredibile potresti innamorarti un approccio diciamo un po' curioso si ora alla prossima live discord se vuole entrare invitata la possibilità gliela diamo torniamo alla clip va poi passiamo ai play e lo va oh diretto così questo è quanto è meglio è un consiglio era goliardico era goliardico li ha messi in guardia da se stesso bravo bravo Vianello che si scaglia contro il politicamente corretto chissà perché post post di Giorgia Meloni come non essere d'accordo col grande Edoardo Vianello che se non sbaglio nella serata di Capodanno radiofonica condotta da Amadeus lui ha cantato i batussi io lo so perché stavo in un ristorante e ho sentito quella canzone in radio senza censura giusto come giusto che sia perché la canzone è quella e guarda caso qualche giorno dopo esce sta quote ma è per quello chiaramente non mi interessa adeguarmi al politicamente corretto che è la scorciatoia di gente in cerca di visibilità altissimi che dovrebbe protestare piuttosto per l'aumento delle bollette vabbè sono altissime le bollette altissime diretta tv anche se io l'ho sentito in radio vabbè altissime bollette è giusto secondo me non modificare il testo perché quella è una canzone non ha senso cambiarlo cioè una canzone storica allora se veramente vuole fare una cosa cambiassela n word con bollette lì farebbe una cosa sociale incredibile altissime bollette è vero effettivamente genio cazzo scusa altissime salatissime bollette c'è stato un rincaro poi non so non so i motivi salatissime bollette e ora pure salvini bellusconi tutti con ste bollette allora c'hanno ragione se è così bisogna mettere il nucleare calate c'è sti cazzo di bollette allora il nostro amico grembo racconta una vicenda con dei taxisti che ci interessa quindi l'altro giorno un chat ci hanno chiesto come mai non siete mai andati da grembo nel mio caso non mi ha mai invitato se mai mi invitasse potrei pensarci però solo se c'è anche rubino ma chi l'ha scritto quel messaggio in chat da grembo aiutenti che ogni tanto commento cerbero podcast cioè allora hanno scrinnato sul gruppo o amici do dubbio o c'è non mi ricordo un messaggio scritto da cerbero podcast con scritto cosa? con scritto non ci avete mai invitati una cosa del genere no io a me sembra strano ma come no? ti giuro non ci avete mai invitato non l'ho mai scritto in chat era una cosa del genere quindi mo che l'hai ripetuto ho pensato potessi essere allora no io ho scritto da rubino ieri era una cosa del genere era una live di grembo mi sembra strano poi muo mandi defa non me lo vede commento vabbè mica c'è niente di male non è un reato no no però mi sembra strano perché ho una bella memoria ho ci ha nagherato no una bella memoria non me lo ricordo vabbè ma non ci sarebbe niente di male mi rimangerei era cerbero è che non no regà sto in buona fede quale lupo è che non mi ricordo ed è strano io c'ho una bella memoria ma che è Patrizio è rimorchiato vediamolo è vista al cerbero greve non l'ho scritto io come lo sono chiede a me è stato bravo è stato bravo in pieno inverno grazie Fabiola grazie Fabiola puoi interrompere Patrizio quando vuoi Fabi sottovalutate no lo sai per eh lo sai perché la gente non ci crede non ci crede perché cioè non è che non ci crede la gente crede ai tuoi fallimenti io credo profondamente ai tuoi fallimenti io invece credo in te crediamo in te Patrizio sappiamo che hai scopato 3000 donne tranquillo io credo in te cioè su quello ci dobbiamo fidare invece le prove tangibili empiriche dei fallimenti sono proprio sotto forma delle sue live no? è il dogma Simone devi fidarti di Patrizio no no però è vero che nelle sue live qualcuna ha preso il numero giusto il suo numero l'ha preso è denunciarlo e poi c'è il numero e poi c'è i carabinieri Cerbero questo è per te grazie grazie chi ero? mi sembri comunque da solo cioè dove sta? no c'è la voce fuori campo è un uomo dove sta la tipa? come un uomo? dov'è la tipa carino? no è una voce un po' profonda è un ventricrofo è una voce un po' profonda è una voce femminile sì sì è una voce femminile è una voce femminile profonda ma dove l'ha trovata questa? è scritto Patrizio rimedi al numero di una cinquantenne in live una cinquantenne mi coglioni padri scommessa aspetta aspetta mi sentiamo no non è una scommessa era una donna raga era cinquantenne va dato al corso del zamba del rumba come si chiama io dico le cazzate la voce dei silma dei sim siccome ne ho avuto un po' di donne ne ho avuto un po' di donne io vivo a Rimini sì allora tre due sette perfetto gli ha dovuto specificare la tipa che ha avuto un sacco di donne capito? è importante te l'ho salvato ok Patrizio finché non faremo una live insieme in cui andremo proprio a toccare quello che sei tu io non ci crederò mi dispiace piccola news Donalise bannato da Twitch clown Twitch clown Twitch clown mo c'è bannato da noi questa cosa no no clown è in senso buono è un lavoro nobilissimo visto un post è stranissimo ma infatti noi dovremmo scandagliare di più i nostri gruppi ah questo fa ride questo fa ride ma sto collega mia cerca la droga ma non ne fa uso ma che cazzo del lavoro fai ha un filtrato del merda ma che c'è metti il pepe cerchi la droga e non fumi ai canni ma anche filtrato del merda ma che è no questo l'ho linkato io ma da un'altra parte no l'ho aperto ok ok questo pure lo dobbiamo vedere su Logan Paul cazzo sta sto screen davvero dove sta questo? le origini ah eccolo 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 vedi che è da Rubino non è da Grembo di Ocane l'ho detto prima sono sbagliato sembra Grembo perché c'è Grembo l'ho vista al volo ma stava in live pure da Grembo? no stava commentando stava vedendo il best off annuale di Grembo e il nostro era Rubino e stava di tipo ah ma io oggi starei tutto il giorno in live ma dopo ho andato da Green ho detto ma ci vedi Rubino oggi streamerei pure io però non c'è Cerbero posso fare una domanda? ho scritto così no l'ho detto genuinamente ho detto se Green mi invitasse certo e c'è sta pure Rubino io entrerei posso fare una domanda ma il best off annuale di Grembo dura 14 secondi? credo un paio di minuti ah un paio di minuti ok due battute riuscite di Rubino il best off annuale comunque possiamo fare un annuncio anche per calmare tutti i fanboy di Grembo che sotto i vari freebooting ci insultano sempre piccolo spoiler Grembo sarà presente ai Boss Car 2022 ah ma quindi non ci odiamo ma quindi non ci odiamo si Grembo out si Grembo out si Grembo out si Grembo out però a differenza dell'altro anno avrà uno script perché però ragazzi ci sarà una novità importante invece non ci sarà quel testa di cazzo di Jody questo possiamo dirlo no ma famogli fare qualcosa a Jody famogli portare Red Bull se va venire magari gli fanno fare un sbrattino vero scherzo si si ci ho parlato era anche molto contento devo dire questa cosa mi mi emoziona un po' perché tutte le persone che ho contattato erano entusiaste di lavorare alcune nuovamente con noi per i Boscar non lo so mi ha dato molta carica questa cosa si si perché al di là del meme delle battute delle critiche legittime o meno c'è comunque un bel clima ma perché per lavorare assieme su qualcosa di bello è palese che stanno a fare qualcosa comunque di grande indipendentemente da quello che siamo noi se siamo simpatici o antipatici quindi vedere tanto supporto anche da parte dei colleghi ci fa ben sperare perlomeno si si date il Boscar a Carepazzo l'abbiamo già annunciato ad Onorem l'abbiamo già annunciato lui non lo sa ma riceverà il Boscar ad Onorem e anche un'altra persona che non vi diremo riceverà un Boscar ad Onorem come stavo dicendo quest'anno avrà uno script la parte di Grambaud l'altro anno per chi non lo sapesse diciamo che fu un po' improvvisata la cosa perché ci siamo ritrovati lì a Milano e quindi l'abbiamo inserito però all'ultimo invece quest'anno lavoreremo sopra tranquilli che farà ridere stavolta perché lo scriveremo noi magari anche un pezzo musicale chi lo sa comunque Grann racconta una vicenda con Omi un po' brillo ti racconto questa cosa con Ometol che mi ha messo tanto in difficoltà ma mi ha fatto troppo ridere quando stavamo aspettando il taxi tu tra l'altro hai vissuto proprio la situazione in cui è arrivato il taxi fa solo contanti te lo ricordi? il taxi ci guarda e ci dice solo contanti perché era un vecchio di 70 anni che probabilmente mancava la partita IVA probabilmente e quindi vabbè solo contanti mancava riscritto in un radiotaxi allora io guardo guardo Omi e gli dico oh io non ho contanti e lui mi fa tranquillo bro sono a posto va bene è proprio lui è lui allora saliamo sul taxi lui comincia a intortarmi con discorsi di cui non ho capito nulla perché era completamente fuori allora 27 euro di taxi comunque un viaggio bello lungo vabbè lui ah è vero tra l'altro lui alle 5 di mattina mi fa andiamo al MOBA si sta preparando all'apertura del giorno dopo allora ho detto no dai ti porto a casa stai tranquillo poi vabbè siamo andati a prendere un kebab perché avevo la sto cazzo comunque vabbè arriviamo a destinazione 27 euro del tassametro il signore giustamente si gira e fa sono 27 euro allora io guardo ovviamente guardo lui e gli guardo Omi cercando o no una risposta che mi desse conforto Ometol prende il suo telefono enorme scarico e fa io pago con l'app scarico non ci credo allora ovviamente il tassista fa ma che cazzo stai dicendo e ovviamente l'ho cominciato a intortare un discorso facendo io ho letto i termini e le condizioni di free now e posso scegliere come pagare ha ragione quindi lei in questo momento mi sta truffando io posso scegliere come pagare questo telefono che c'è la batteria scarica così no io posso scegliere come pagare e gli ho detto ma che cazzo stai dicendo ma figa poverino questo qua che poverino c'è ragione Ometol prima che c'è tenevano scarico no no quello che si è in paragu no no oltretutto è vero ma gliel'aveva detto prima ok allora Simone che ci dica prima di reagire ai play lover c'è una un'altra faccenda diciamo incresciosa di ciccio che sta facendo parlare e addestato dal sonno eterno anche dell'imello ah greve sul ciccio no che si è solo espresso con un lol per ora non lo so se ne parlerà comunque sono da vedere gli ultimi tre a partire da questo parte uno a quanto pare ciccio gamers ha fatto una live su youtube dove per farla andare avanti era un euro dieci secondi di live una cosa del genere va beh clicca lì e poi è una maratona è una maratona un euro dieci secondi mi sembra un po' caro dal mio punto di vista rispetto a altre cose che ho visto cioè diciamo è guarda è la conversione euro tempo più cara che ho visto finora posso dire quello che penso proprio in maniera tranquilla non ho non vedo una live di ciccio da mesi quindi non so come vanno le sue live però se le entrate sono così tante ci potrebbe sta pure perché alla fine sarebbe inutile ragazzi siamo sempre è una sua scelta sta l'ha scritto chi vota una donna siamo sempre per me non ci stanno problemi per me ci saranno cazzi suoi infatti io non ho espresso il minimo giudizio 360 euro è una cosa singolare e la cosa su cui riflettere non è tanto il fatto in sede dell'euro ma sono le parole di ciccio che si sfoga quindi vediamo le parole di ciccio vediamo c'è non siete proprio minimamente ma ripeto non partecipate si si lo so no ma a prescindere sti cazzi ragazzi ma sapete perché lo faccio con quei prezzi lì uno perché se mi volete vedere live con quelle tempistiche il mio prezzo è quello due l'ha fatto Codico che è spagnolo la community spagnola non ha detto un cazzo anzi lo ha supportato è stato un mese e mezzo live un mese e mezzo lo sapete quanto ora dirà che il problema sono gli italiani 15 milioni d'euro quello un mese e mezzo quanto costava lo dice lui che non ha subito la minima critica poi vatti a informare veramente sì vabbè raga 360 euro all'ora secondo me comunque è legittimo alla fine il valore di mercato lo sceglie il pubblico chi pensa che sia ridicolo non donerà a Ciccio Gamer chi vuole supportarlo donerà vedremo come andrà avanti non so quanto sarà andato avanti cioè è una scelta se a voi indigna se a voi non vi piace non donate chiudete e ve andate andate da streamer x che con un euro va avanti un'ora e siete più contenti io adesso non so quanto sia durata questa maratona a fatto che si possa chiamare così ovviamente fa un po' ridere però secondo me lo stesso discorso che facemmo con Masseo non è che dobbiamo andare per forza contro Ciccio adesso vediamo per adesso no per adesso no dico la premessa Masseo ha chiesto 17.500 sub volete il collegio questo è il mio prezzo e Ciccio ha fatto lo stesso raga io su questo non lo condanno poi le sub invece quanto aumentavano no no non c'era no no c'era c'era perché l'avevo visto ma su Ciccio dici sì 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 ci sono anche le sub su YouTube ma non è questo importante importante è il discorso no no era per capire penso uguale comunque la sub è su 5 euro sempre avrà calcolato 10 secondi ogni euro però YouTube questo eh no i sub è su YouTube costano de meno tipo un euro ah de meno sì vabbè allora sarà uguale 3.99 2.99 costavano tipo un euro ho visto l'altro giorno poi erano rialzate io ero rimasta tipo guarda avevano calata un euro quindi pensate ci sono i livelli come su Twitch un minuto dicono una camper 2 vabbè andiamo avanti non lo so regà non seguo i live su YouTube quanto si estendeva la sua live con un abbonamento da 5 euro si estendeva 5 secondi allora io è per quello che vi dico che delle volte vi dovreste imparare a stare ben secondo zitti ma mica vi niente è proprio un dato di fatto secondo voi questo domanda retorica ovviamente questo sistema sarebbe applicabile a qualsiasi live del Cerbero cioè donate noi continuiamo a parlare a fare il nostro lavoro che in teoria vogliamo fare siamo ben disposti a fare era maratona non l'abbiamo mai fatta però sai se la faremo metteremo che ne so un euro tot tot una sub tot sarà la nostra scelta famo un euro un secondo no quello no quello non è una scelta libera allora scusate sì è una scelta libera però io non lo farei scusate io non lo farei facciamo un euro un secondo personalmente non lo farei per la mia utenza penso che sia uno scam l'utenza di ciccio no sono cazzi suoi personalmente io non lo farei lo farei per un prezzo cioè un prezzo ecco un euro una sub facciamo un euro 0.5 una sub 5 minuti io metterei sì una sub 5 minuti non lo so un euro un minuto 100 bit un minuto dico la verità valuterei anche il prezzo di mercato delle maratone perché non sono informato che ne so tipo un gischianto ogni sub quanto aumenta per capire e mi pare 5 minuti anche 10 minuti però certe volte Dario ha fatto una sub 3 minuti sì ripeto non lo so valuterei sicuramente non 10 secondi un euro Dario ha fatto una sub 3 minuti ma è stato pure in live 2 settimane calcolando il format che facciamo noi già una sub un minuto però non lo so quando è che diventa ridicolo? questo dipende dalla percezione per il caso del cerbero diventerebbe ridicolo quando un euro gli dà in più 10 secondi nel cerbero sì se tira il discorso il mercato del cerbero sono 0,50 per 45 minuti ci sta 5 secondi 5 euro 5 secondi leggendario oh la madonna Simone Ciuto ma grazie mille bro grazie 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 Simo benvenuto tra i paguri poi tra l'altro leggendario grazie infinite grazie 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 non è un fattore che se lo fanno gli altri lo posso fare anch'io se lo fanno gli altri lo posso fare anch'io non che lo fanno cosa? non ho capito comunque è comico Ciccio quando cerca di argomentare fa sempre ridere questa è la classica depensata dice una cosa e ti smettisci il secondo dopo aspetta aspetta voglio risentirla ma ha detto la cosa che ho sentito aspetta grazie 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 Simo benvenuto tra i paguri poi tra l'altro leggendario grazie infinite grazie 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 non è un fattore che se lo fanno gli altri lo posso fare anch'io se lo fanno gli altri lo posso fare anch'io non che lo faccio anch'io vabbè sta frase va incorniciato bellissima non è che se lo fanno gli altri lo posso fare anch'io se lo fanno gli altri lo posso fare anch'io dai non me prego fate su reddit un motivational così però la musica sotto col testo scritto sotto riscrivete tutto quello che dice ciccio veramente mi fa venire la voglia proprio di commentare le cose e quindi a me sinceramente cioè non è un obbligo lo volete fare fatelo se no a me non me ne frega un cazzo stacco prima forse non saremo capiti ma che atteggiamento è rispetto alla community è pure questo che mi ha fatto un po' storce il naso effettivamente cioè lo vedo molto stizzito non con un rapporto dai stiamo a fare questa cosa insieme divertiamoci io lo vedo molto business io lo vedo come sì un lavoratore che vede ovviamente i suoi spettatori come paganti ma per chi io mi ricordo una frase celebre di i famosi spettatori visti come banconote che camminano te lo ricordi ma youtube e il rapporto community e creator non è solo questo ok se io mi sto a vedere uno che sta giocando giochetto che mi piace pure a me mi piacerebbe quanto meno scusate sei fatto contro il libero mercato però mi piacerebbe quanto meno vedere il creator che se se sta tagliato comunque ha voglia di fare quello che sta facendo non che se o a me cioè ci sta che lo fa ma non che dice o a me mi frega un cazzo se qua se smette io stacco non mi frega niente lascia la partita a metà ma che è che me sto a vedere uno che sta a giocare una cosa o sto a vedere uno che continua a fare una cosa contro voglia finché gli danni i sordi che contenuto è io questo ho pensato posso essere in disaccordo su questo certo che puoi Davide allora vabbè poi la tua percezione è assolutamente legittima quello che cerco io quando vedo qualcosa non vedessi mai un contenuto di questo tipo però se a un certo punto lui vede questo come un vero e proprio lavoro cioè io non condannerei mai un tizio alle poste che si rompe i coglioni a fare quel lavoro ma deve farlo essere intrattenente non è fa sordi porco Dio non è quello il lavoro suo però aspetta se ti paga per questo tipo di atteggiamento anche evidentemente è intrattenuto è ridicolo lui ha parlato male alla sua community ha avuto un atteggiamento secondo me scortese è ovvio che è un atteggiamento di merda questo è palese però se continuano a pagare e lui continua ad avere questo supporto evidentemente vogliono questi è classico tu vuoi la merda e io te la do non sto a vedere uno che fa un prodotto intrattenente sto a vedere uno che minaccia di smettere di streamare se non lo pagano cioè capito fosse una cosa di contorno che lui comunque sta là dai giochiamo e fa un bel contenuto ok ma nel momento in cui si trasforma ad una morale a depensaggio morale e quant'altro mi scade pure la voglia di vederlo e dico ma questo è legittimo se tu non sei intrattenuto da un contenuto del genere chi te può di nulla evidentemente altri invece apprezzano ma io sono in una situazione strana perché dal mio punto di vista ci avete ragione entrambi perché quello che sta di Simone è verissimo è sacrosanto però poi subentra quello che sta di Davide cioè la scelta ce l'hanno i spettatori se la live va avanti significa che non tutti la pensano come te io Simone la penserei come te ma non penso che sono l'unico uomo sulla terra a quanto pare la community di Sciccio Gamer non la pensa come noi c'è chi dona la live va avanti e lui fa quello che deve fare questa cosa ha fatto abbastanza scandalo anche nella sua community capito non è che sono l'unico stronzo che ci ha trovato sai qual è il fatto il problema secondo me è uno solo i modi però la gente comunque fa quindi alla fine lui sta a fare quello che deve dal punto di vista professionale e non sta a fare niente di scorretto o di non etico sta a fare qualcosa che potrebbe non essere condivisibile o accettato da determinati fan però a quanto pare le live vanno bene comunque quindi non è neanche questo il suo problema immaginate se non è fallita sta maratona quanto è durata questo non lo so però in quel caso andrebbe bene lo stesso perché il pubblico ha deciso di non supportarlo esattamente come quando parlamo di Abercrombie certo quel tipo di politica poi a un certo punto inizialmente è stata super apprezzata poi rigettata dal compratore e sono falliti e la stessa fine potrebbe dico ipoteticamente fare ciccio con l'approccio di questo tipo il problema ripeto secondo me il modo perché esempio anche il Maseo è stato molto crudo però è stato diciamo onesto e ha detto le cose come stanno non si è accanito contro la community ha detto ragazzi io il collegio non mi va da fallo però a voi intrattiene lo stesso questo è il prezzo lo volete? sì se no non lo faccio l'approccio è simile lui ovviamente è super arrogante però è anche un tratto che può appassionare questa sua arroganza che vedevo alla fine non è una cifra estrema ha fatto 4320 euro con 12 ore di live perché dicono che è durata 12 ore 12 ore cioè è una cifra 360 euro l'ora è 10 1 euro ogni 10 secondi regà ho sbagliato qualcosa ma non è tanti soldi regà non è un discorso di soldi è un discorso di io che contenuto sto guardando sì no la lamentela è stato vergognoso quello sì io qua avrei smesso di donare in massa se fossero stati tutti come me la live sarebbe finita punto c'è un'obiezione però dicono che non è molto diverso dal round aggiuntivo 100 sub lupus devo dire una cosa però noi di media facciamo 100 sub al live è la media a volte ne facciamo 300 come ieri sera è uno specchietto ragazzi è per far andare il live di lupus bene come le altre cioè per rimanere in media non è una cosa in più però vabbè per un discorso di trasparenza questi sono coerente perché ripeto per me è legittimo stesso discorso se non volete un altro round di lupus se ne fanno due due standard e finisce lì e Fabiola a chi non piace il gol si sabberà in una prossima live comunque la scelta è sempre aperta a tutti qua non c'è nessuno che punta una pistola in testa agli altri e lo stesso vale per ciccio lo ripeto regà e si tra l'altro qualcuno cita Zeb Zeb è uno che con l'arroganza ha creato un personaggio incredibile evidentemente qualcuno è intrattenuto da questa tracotanza ciccio gameriana ma andiamo avanti andiamo avanti con le sue argomentazioni ma come si con me ma no Salvatore ma lasciali perdere lasciali perdere regà ripeto non fa niente chi vuole fare lo fa chi non lo vuole fare non lo fa è molto semplice anche un euro un'ora e mezza ci sarà sempre qualcuno ma perché loro si fanno i conti senza l'oste si fanno tutte queste cose belle ma mille cose ragazzi da tenere in conto sinceramente sinceramente se voi volete che io lo faccio lo faccio se lui li dà in beneficenza sono molto contento ma lo vuoi tu farlo è quella la cosa non devo dare spiegazioni non devo dire che li dà in beneficenza non li dà in beneficenza ragazzi io non vi devo spiegazioni in alcun modo a nessuno di voi perché quando faccio beneficenza io voi neanche lo sapete poi se ci sono delle occasioni speciali allora lo dico ma se no voi non sapete un cazzo di me o almeno sapete molto poco quindi ripeto ho il diritto di non dirvi determinate cose perché non vi interessa tutto qua anzi perché non vi deve interessare che è un po' diverso sì no maria eterna fierro sono d'accordo gli italiani sono se uno dei creator che io amo e che seguo costantemente perché vedo nella passione in loro che gli va che insomma che mi intrattengono fare un discorso del genere ci rimarrai male smetterei di seguirlo capito cazzi di ciccio gamer appunto io sto dicendo che sta lavorando male non sta facendo un buon lavoro secondo me ha fatto i soldi ha fatto i soldi ma che vuol dire è una tua valutazione magari molte persone l'hanno percepito come l'atteggiamento di merda e non lo hanno sostenuto per me si rovina il rapporto con la comunità che non è durata molto appunto se come mi dicono 12 ore non lo so per qualcuno può essere considerato un fallimento magari per lui no che comunque ha guadagnato tanto che ve devo dire certe durano settimane però magari ciccio voleva stare poi non lo so come anche la gestione della live magari se si è fatto diciamo aiutare se si è alternato con Pepo non lo so comunque ciccio ha anche magari un regime di vita particolare lo sappiamo quindi magari stare tante ore in live come disse anche Rubino non è il massimo che ne so questo appunto io non lo so scelta sua quando hai questo muro a mio avviso è meglio spingere il pc e buttarsi sul divano però ciccio è quasi sempre così raga è sempre stato così specie da quando ha perso peso ed ha preso più sicurezza e quindi magari all'inizio no ovviamente però in seguito a questo suo miglioramento come abbiamo detto anche nella famosa live come dicemmo nella famosa live è diventato ancora più arrogante però ripeto che vedevo di perderà pubblico cazzi suoi come ha fatto Zeb Zeb ha seguito la sua morale ha seguito è rimasto a fare le live per soli sub con 70 spettatori scelta sua per me ora ciccio è il fratello di Joker ve lo dico che poi è fattuale nel senso è il fratello di Joker una battuta ce l'hai in mente da tipo 3 minuti con letta in chat 40 secondi fa avevi il sorrisetto ma anche in testa mia anche in testa mia guarda qua lo dico e qua lo confermo io sto scrivendo a Joker ogni settimana ogni settimana oltre no beh a parte il fatto che gli voglio bene questa è una cifra simpatico ma perché lo voglio a Lupus e prima o poi verrà sto cazzo di Lupus gli scrivo ogni settimana gli mando il messaggio Lupus posso dirvi che per settimana prossima se facciamo Lupus ci sarà Nicolas Cage mercoledì prossimo allora puntiamo Nicolas Cage e Joker top puntiamo per posso fare un paragone che magari non c'entra nulla io faccio la maestra e prendo un tot al mese ok il mio ruolo è insegnare avere una relazione di cura con i piccoli io posso farlo con il musone non me va perché lavoro i bambini mi inizierebbero a odiare oppure faccio perché mi va il vero amore allora hai ragione però secondo me c'è una differenza sostanziale tu hai un ruolo educativo e io sostengo che un maestro di qualsiasi natura debba avere anche una vocazione perché lì comunque tu hai un ruolo che può impattare anche nella vita dei ragazzi e dei bambini esattamente come un creator Ciccio Gamer esattamente come Ciccio non ha quest'onere però non è un insegnante non ha questo dovere l'insegnante all'onere dell'educazione Ciccio Gamer all'onere dell'intrattenimento quello che ti dico prima ma così viene meno al suo onere secondo te magari secondo altri no che te devo dire magari c'è gente che sta pure contenta se la gente la pensasse come te a breve fallirà o comunque viene giustamente criticato punto non è che ora deve finire la vita di Ciccio Gamer sapete com'è pure la gente che magari va là che te critica e te segue comunque poi continua a seguirti non tutti quelli che te criticano in quel momento smetteranno di farlo sappiamo come funziona anzi spesso persone che te seguono tutti i giorni magari alcune sono persone che ti insultano tutti i giorni però te seguono il web è un posto particolare la prova finale come stavamo di prima sono i numeri purtroppo quindi la prova sai quella io posso pure fare un euro un secondo la prova finale del mio successo o del mio fallimento sarà la durata della live perché altrimenti se seguiamo sta logica dovremmo andare contro il libero mercato esempio non sia mai se una famosissima pornostar decide di vendere i suoi peti in barattoli ad un milione di euro cada uno dobbiamo stare muti e vi ricordo che noi fummo tra i pochissimi a non criticare la cara Chiara Ferragni per l'acqua proprio perché i moralisti del cazzo cominciarono perché lì furono montate pure diciamo delle mistificazioni l'acqua costava uguale anche prima sì tutte le collaborazioni di quel tipo assolutamente sì però in generale io la penso così qualcuno ha scritto è anche un content creator ha un ruolo comunque educativo allora quello è un discorso di responsabilità nel senso che io ovviamente sento la responsabilità di quello che dico e penso in questa stanza un po' tutti tant'è che abbiamo dimostrato di voler cambiare certi atteggiamenti è come se Mosca adesso è il tempo che dovremmo chiudere la live a metà discorso lo so ciao non ci frega un cazzo in realtà però in realtà non ha un obbligo cioè come direbbe il buon social boom una rockstar non ha il dovere allora ok è una rockstar è una rockstar è una rockstar è una rockstar quello è personale cioè soprattutto magari chi ha un pubblico di piccoli secondo me delle domande dovrebbe farsele dovrebbe non è obbligato un insegnante sì un insegnante sì perché ha un ruolo specifico molto importante per la crescita di un ragazzo anche gli influencer lo so però è diverso secondo me cioè da una parte c'è l'educazione istituzionale ti metto in quel ruolo e ti do la responsabilità io come stato ok o comunque sei una figura anche privatamente che esercita quel ruolo lì e all'interno della tua deontologia professionale c'è anche questo nel suo caso no non c'è un patentino influencer è diverso tu quando parti tu quando parti col tuo lavoro non è che metti in conto chi potresti essere per altre persone spesso neanche lo sai cioè almeno io parlo per me non è che uno mette in conto queste cose qua l'insegnante è una cosa completamente diversa tu lo sai fin dall'inizio con chi ti rapporterai però quando tu vai a aprire il tuo canaletto del cazzo tu mica ci pensi lo saprà però non è che sa che deve farlo magari non gliene frega un cazzo e sarebbe pure giusto se non gliene frega un cazzo è pure giusto paradossalmente perché è la sua scelta poi se alla gente non gli sta bene non lo si allora perché dice siamo la famiglia di Pacuri siamo questo perché lì sta a fare il lavoro di influencer bene ma non c'è il cazzo qui lo sta a fa male non è che se una cosa si può fare allora qualsiasi modo la fai allora devi stare muto in questo caso secondo me sta a fare una cosa che si può benissimo fare cioè fare la maratona l'abbiamo fatto anche noi ma nel modo sbagliato a livello morale questo è vero a livello morale a livello di intrattenimento a livello di contenuto a livello di immagine pubblica un sacco dei livelli pure sul livello scientifico anche secondo me è lavorativamente sbagliato la riciccia scrive la riciccia scrive l'etica non ha bisogno di istituzioni Mara non deve pensare facevo l'insegnante a danza e amavo farlo scusa sali un po' Marco interessante questa obiezione e amavo farlo no sta sopra eccolo i soldi a fine mese non me li aspettavo proprio perché è la mia vocazione certo però c'è anche ripeto una deontologia professionale nel momento in cui tu sei un insegnante come lo sono stato io per dieci anni in palestra ho una mia deontologia ma se si vede che in testa tua sarai un insegnante scadente però in testa tua sai pure che devi camparci scadente e infatti se fossi stato un insegnante scadente non avrei avuto il pubblico i clienti che ho avuto nel tempo anche grazie al passaparola e probabilmente il direttore quando facevo un istruttore mi avrebbe buttato a calcio il culo fuori ma sai quanti todo dio quanti ce ne stanno scadenti certo non è che possiamo costruire un mondo che non esiste sai quanti professori ho visto pure io soprattutto di educazione fisica che c'era una palla giocata a palla a volo intanto se leggeva la gazzetta dello sport il paragone regge alla pari dell'insegnante che se vede che gli frega un cazzo e ti dà brutte vibe in questo caso streamer che gli frega un cazzo e ti dà brutte vibe rispetto a quello che dovrebbe darti lo so però se dovessimo applicare questo discorso ai content creator non dovremmo neanche fumare ecco perché è perché è un messaggio sbagliato non dovremmo bestemmiare che cazzo ne so non c'entra nulla è una cosa passiva rivolge al tuo pubblico in un certo modo fumate fumate cioè questo è proprio di io smetto di stare qui con voi in vostra compagnia se non mi date i soldi ed è legittimo ma non in questo modo in parte anche tu stai qui perché abbiamo uno stipendio no? dato dalle sabbi ma mi va anche di stare qui ma questo è bellissimo infatti è la differenza tra un bravo istruttore tra un bravo insegnante e un insegnante di merda che sta là solo per i soldi questo è un esempio di merda però lui in questo momento non sta insegnando un cazzo no sta a fare il suo lavoro sta a fare male a mio avviso secondo te? ok ha sbagliato secondo me a dire proprio chiaramente io se non mi pagate me ne vado con quell'arroganza però se un insegnante non viene pagato? no no certo però dice se non mi pagate proprio così tantissimo ma non è che l'insegnante non arrogante però regà facciamo un altro esempio mondo della musica che cazzo non so Steve Aoki faccio un nome a caso David Guetta avrà un cachet del certo livello se non mi date dico una stronzata mezzo milione di euro non faccio st'evento sì mica ha il dovere di farlo a 100 euro no? ma non è che durante l'evento può dire se qua non comprate i popcorn e non fate fatturare di più io me ne vado non è questo cioè che vuoi di comprare un biglietto per l'evento con una cosa del genere no che è la stessa cosa il prezzo per andare a vedere in concerto di David Guetta sarà altissimo e lui ovviamente non accetterebbe mai un cachet sotto quello che è il suo prezzo di mercato ma il cachet non glielo dà la gente diciamo che è in relazione ai biglietti che vendi chiaramente ai biglietti a parte che se non vedi i biglietti non fa po' per concetto ma perché diventa un evento fallimentare poi è chiaro che non c'è però ovviamente il prezzo di mercato cioè ti pagano tanto perché porti tanta gente no? è evidente sì ma è pure Ciccio che fa lo spettacolo a teatro nel senso se riempie il teatro o fa se vende due biglietti non lo fa ma a monte ma non lo fa perché non c'è nessuno interessato a prescindere ok? in questo caso c'è gente interessata c'è gente che vuole mandarti avanti perché magari vuole sta bene vuole vedere te che giochi al gioco perché è interessato al gioco ma in realtà non diventa questo diventa io continuo a giocare contro voglia ah ci sono arrivato porca troia un conto è che tu allora tu dici io dono ad uno streamer che sta facendo una cosa che voglio vedere e che lui palesemente vuole fare perché sennò perché sta là no? voglio vedere il gioco un conto è che dopo sto discorso io sono consapevole che sto donando a uno che lo sta a fare contro voglia che si rivolge a me in un certo modo smetti di donare ma fatti questo sto a dire però è lo stesso discorso del Maceo io donerei volentieri è lo stesso discorso del Maceo il Maceo ha detto a me fa cagare il collegio infatti ho un discorso molto più posato più onesto è stato più onesto infatti l'ho detto però effettivamente la stessa cosa chi ha donato al buon Maceo per farlo arrivare a quel gol incredibile delle 14.500 sub era pienamente consapevole della sua diciamo del suo non apprezzamento e della sua non voglia di reactare al collegio lì è stato più onesto però anche Cicci in realtà in molte live si approccia comunque così che sta alla scoglionata quindi il suo pubblico io penso lo sappia il fatto che sia giusto fare un euro a 10 secondi implica anche che sia giusto farlo essendo completamente onesti del farlo contro voglia nel senso io dico ok faccio sta cosa ma non me la cioè se me donate sappiate che non me ne frega un cazzo state obbligando a fare una cosa che non vuole però c'è può essere un tipo di intrattenimento sono d'accordo ma in questo caso secondo me no comunque c'è un dettaglio molto importante che ho trascurato la live si basava nel giocare a Clash Royale quindi adesso cambia tutto eh ma adesso cambia tutto guarda adesso cambia tutto secondo me avrebbe dovuto mettere un euro un secondo non me ne ero reso conto che stava a giocare a Clash Royale lo porta da anni sicuramente gli avrà anche cagato il cazzo è quello del suo content è il suo content ah ok ora farà una ringa contro il popolo italiano oh vai proprio tanto è uno io penso che l'italiano sia uno dei popoli più invidioso che ci sia ma non solo su youtube o ma proprio nel mondo cioè proprio l'italiano è invidioso popolo di invidiosi noi siamo un popolo che se troviamo uno che c'ha una macchina più bella della nostra lo abbiamo subito no magari gliela richiamo gli facciamo mille dispetti eccetera eccetera sto fio di puttana chissà che cazzo avrà fatto per guadagnare sta macchina però nessuno mai che magari dice avrà fatto una maratona di Clash Royale contro Vodia vabbè è una generalizzazione ma è vero che comunque il popolo italiano in media lo vediamo costantemente è abbastanza invidioso per quanto riguarda la ricchezza anche quella ottenuta con meriti lavorativi i conti in tasca però se non lo vede vengono fatti un po' da tutti l'esempio di Chitano penso sia calzante ma non è che il popolo italiano magari è l'essere umano che spesso si ritrova in una condizione così ma è un discorso poi numerico di minoranza c'è un popolo uomo che secondo me senti gli italiani ma che cazzo di ragionamento è è una percentuale di gente come c'è stata ogni parte però anche se dipende pure dalla cultura per esempio in America invidia è un sentimento non è che è una cosa italiana in dubbio però ad esempio in America non c'è la stessa percezione perché c'è stata una costruzione precisa opposta a quella italiana quindi chi guadagna tanto è un vincente nella società molto classista tra l'altro come mentalità però è così vabbè vediamo prima i play lover va che sennò poi qua ci perdiamo allora questi sono i play lover questi sono i play lover questi sono i play lover questo è un best off questo è un best off lo vediamo dopo magari sono diventati M2F sono delle clip di Twitch 2021 hot diciamo sono le più sciacione diciamo allora io non ho trovato lo spot l'ho cercato ovunque comunque sono andati anche in onda con questo spot in tv qua Italia 1 ma Piamedeo Piamedeo quindi diciamo che sono arrivati anche in tv i carissimi amici play lover che rispettiamo assolutamente grande la mediaset e anche la strisciata notizia ha fatto una sorta di servizio inserendo anche un altro seduttore non Patrizio che abbiamo visto in live o ricordate quello col cappelletto che aveva il sito con le testimonianze faccia da cool faccia da cool faccia da cool faccia da cool bello bel nick ma che nick è io con l'inglese con l'inglese sono veramente pessimo in un luogo dove si annidano i personaggi face da cool face da cool face da cool chiedo profondamente scusa per la mia pronuncia erronea di prima faccia da cool appena ti piace una cominci ad essere gentile men che non si dica ti trovi in una friendzone fotonica il problema è che alle donne piacciono gli uomini alfa e c'è chi questo video da un'ora e venti se l'è sciroppato tutto quanta però non a casa me lo guardo tutto ecco qua piccolo no no io non lo voglio io non lo voglio io non me lo bevo ho quattro mani ok ma perché non vi mettete una maglietta bianca e giocate e lanciarvi l'acqua addosso si ma che cosa va bene che è incredibile cosa abbiamo appena visto è lo spot veramente ma io non ho parole ma io vorrei ricevere altre cinque lettere scusa ma io voglio parlare qua e parli parli non c'entra nulla il patriarcato con sta storia mi ero scordato il fatto del ma questo servizio a che cosa serve oltre a prenderli per il culo a prenderli per il culo hai visto mi hanno fatto di un'ora e venti in realtà io me lo guarderei tutto ripeto e poi vabbè quello che abbiamo visto dopo era una gag cioè io non è che mi sbilancierei più di tanto una gag però una gag che ritrae due donne come due cagne si ovviamente enfatizzata quello che volete però questa mentalità c'è si nel diciamo nel nell'ambiente di Playlover Academy questo significa diventare un alfa ovviamente qua vabbè ve spruzzate l'acqua eccetera è eccessivo però avere questa mentalità da alfa secondo loro in realtà qua mi sembra semplicemente il personaggio non lui è uno strozzo se pensano che queste cose possono essere applicabili anche alla realtà li rimango molto basito purtroppo capita però solitamente si tratta di relazioni tossiche e dice a due tipe vi mettete una maglietta bianca e vi spruzzate acqua addosso due tipe è abbastanza effettivamente complesso fuori dall'ambiente pornografico non hai pagato prima sei già a Telescopi e sono le tue fidanzate top poliamoroso secondo me è plausibile ma nella realtà la vedo dura sì vabbè magari in una situazione ripeto goliardica sì tipo fa schifo sto caffè rifammelo cioè era un po' quello vabbè abbiamo altri contenuti qui su facebook di Playlover quanto sei contento del tuo sabato sera stai guardando baglioni su canale 5 sei in giro con gli amici al bar stai guardando la casa di carta la coccane pazzo con la storia di baglioni la coccane pazzo ho fatto dei coli là già a conoscere con la ragazza direttamente qua per strada sono qui a Milano in Moscova ultimo giorno di mostro le ragazze hanno preso il più possibile potete occupare per queste giornate e per quelli là incredibilmente i macchi che si è un po' audio sto molto capendo se capisci in cazzo vabbè il successo di questo ragazzo che ha seguito i loro corsi diciamo parlare con tre ragazze per parlare con tre ragazze ti fa un bel corso vabbè senza che te tremano le gambe ragazzi guarda che è difficile parlare con un essere femminile vuole un corso io guarda io ho studiato not in terror eh ok ti hai visto i video loro no? no 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 ho studiato ho studiato sì non ho perso tempo questo è interessante ho detto ho studiato come masturbare correttamente una ragazza dai no 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 non possiamo vedere sto video può essere informazione utile però ma io non la voglio sapere ma tu me lo devi dire eh tu io sono bravo io so fare le cose in Italia c'è questa cosa qua questo tabù no? che quando si parla di donne di sesso sono già tutti bravi e nessuno ha bisogno di nulla anche se la persona che insulta e denigra questi video va solo con donne a pagamento e neanche la madre cosa? facciamo sto video perché oggi mi sento ha detto essenzialmente che chi insulta Playlover Academy è un puttaniere vabbè non crede sì non crede nei loro insegnamenti è perché è necessario masturbare una ragazza ci metti male è come baciare una ragazza scrivere messaggi corretti ad una ragazza devi saperlo fare devi saperlo fare come vuole lei e non come pensi possa piacerle solo perché non ti dice magari esplicitamente che non le piace no? quindi ti dice oh mica è una torta di mele Fabiola dice questa è colpa nostra perché facciamo sempre finta che ci piaccia sta confermando le parole di quest'uomo beh magari qualcuno ecco alcuni c'è anche da dire che non c'è un modo corretto spesso è anche personale come cosa ci vorrebbe più comunicazione a letto ma anche verso di noi tipo la pippa c'è a chi piace in un modo e a chi piace in un altro se non c'è comunicazione l'altro neanche saprà come renderti piacere c'è comunicazione che spesso a me è successo per dirti una delle volte anzi l'unica volta dove i rapporti sessuali sono andati subito perfettamente sai che è successo? una piccola domanda io ho ricevuto come ti masturbi? io ho fatto vede come mi masturbavo lei mi ha masturbato come mi masturbavo io quello ha aiutato il rapporto quindi non è così errato come cosa tipo se io dico non c'è un solo metodo oppure per ora per ora è safe il fatto è che qua sembra che tu voglia spiega a lui come masturbarla evidentemente c'è una esperienza nel settore le conosce proprio tutte io non so di parte io sono per la realtà e per la verità ma anche lui ha detto comunque che varia da persona a persona appunto appunto basta fare quella domanda per ora basta fare quella domanda che ti ha fatta a te quella ragazza anche alla ragazza copi quello che è ti mette lei la mano ti fa vedere fai così pure oralmente certo sì 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 ci preferisco così colace a chi preferisce più asciutto chi più bagnato no la sensazione cioè dovete 400 euro allora Cerberina mi fa questa domanda come ti masturbi guarda con i piedi sono un contorsionista ma che figata da solo no con estrema con estremo vigore tant'è che molte ragazze non riescono a farmi venire con una sega per questo motivo perché esercito troppa pressione con le mie manone picciottelle ormai sei esabituato sì però vabbè andiamo avanti poi il ritmo è difficile ma come si masturba Marco Chitano il ritmo è difficile bisogna avere un ritmo perché comunque magari il ritmo tuo è difficile ma tipo tu fai tipo in sette ottavi tipo ritmi bravo metto proprio il metronomo praticamente lo metto velocissimo che mi aiuta e vado con quel ritmo preciso della marcia consigli su quando ti troverai di fronte ad una ragazza in carne ed ossa ma che non paghi perché la ragazza che paghi non gliene frega nulla di non provare piacere con te una ragazza normale giusto un filino diversa uno non agire solo con le dita no impara ad ascoltarla quello che fa un uomo medio appena entrato in contatto con la sua gnagna è quello di prendere le sue belle dita e che iniziare a trivellare manco stesse cercando il petrolio non tutti sanno che una donna gode molto di più specie all'inizio sfregando letteralmente con il palmo delle dita della tua mano questo perché è un modo che utilizzano anche loro quando lo fanno è estremamente cringe lui però in questo specifico caso non sai di delle cose errate no non vedo puttanate estreme si si però sono cose che se sanno non lo so vabbè questo è il corso grave quello che ha detto lui tutti espertoni qui tutti espertoni ma qui Marco Chitano dovete capire una cosa che loro loro hanno questo metodo d'approccio simile il ciccio gamer in realtà e vedono il pubblico come dei gobelini se non sbaglio un loro corso si chiamava una roba tipo da larva a qualcosa adesso non non cito precisamente anche questo è pensato perché devono porsi come alfa rispetto al tizio che dovrà comprare i loro pacchetti come fa a comprare il pacchetto di uno che non consideri un alfa che non si pone come un alfa nei due confronti però se io mi devo vedere come una larva non accetterò mai di entrare in quel corso ma dipende Marco perché sai come funziona la mente di molti è un po' come quando tu offendi le troie no? se io offendessi le troie nessuna si sentirebbe offesa no aspetta sto facendo un discorso prego prego è vero prego è come se insulto i stupidi i stupidi sono sono dei pezzi di merda nessuno paradossalmente si sentirà offeso se io faccio un idolo così spinto dove dicono una larva schifosa magari tu lì per dici no vabbè ma io non mi considero una larva poi quando stai trappette da solo che nessuno ti vede tu sai di essere una larva magari un po' in testa tu lo vai a vedere però zitto stai capito se io aprissi purtroppo può essere così se io per assurdo aprissi una cosa analoga a play lover io attuerei questa strategia per avere persone che mi comprano il pacchetto li farei sentire dei beta questo è uno incappa in un mio video e farei di tutto per fargli capire che lui non sa un cazzo quello che fanno esattamente quello che fanno e spesso è anche vero che se una persona arriva a pagare anche tanto per determinate lezioni e corsi evidentemente percepisce di avere bisogno di un aiuto di esperti loro si sono definiti esperti così non sono esperti palesemente non esiste una laurea in seduzione che io sappia ma solo guardando quest'uomo si capisce che è un massimo esperto Davide dice cose giustissime io ho fatto un corso di marketing di queste cose non è che non è che le cago così lo vuole anche insegnare ulteriormente prima della penetrazione in sé con le dita due la mossa della forbice ma cos'è che dice questo qua ma cos'è che dice questo è il pubblico medio no il goblin ma poi a volte fanno delle pubblicità incredibili sì 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 non ho visto alcune veramente assurde poi alcune le hanno tolte cioè che tipo che si travestono con maschere roba in monta che scimmiottano proprio il beta classico lo sfigato secondo loro sì sì e questo è proprio il loro metodo di marketing sono tutti aspettando il videocorso ma chi sei Giovanni cia cia di un'ora e venti ma già ci ho pensato farò un videocorso come cagare no no sia marketing sia rimorchio insieme perché le cose possono andare a braccia tipo un video di 5 ore tu da solo qua in studio il punto finale sai qual è io porterò la gente a far soldi davanti a un pc mentre vengono spompinati sotto il tavolo quello sarà il risultato finale la combo perfetta verrai spompinato mentre fai soldi velocemente perché effettivamente esistono un sacco di marketing guru e tipo sex guru ma mai uno unito penso saresti una figura unica è vero e lei ti considererà è normale da subito scusami scusami chi esiste l'altro di play lover fa esattamente quello che hai descritto è vero fa entrambe le cose fa entrambe le cose non contemporaneamente cioè contemporaneamente nella sua attività però non sotto la stessa azienda diciamo l'abbiamo trovato l'abbiamo visto che lui fa anche corsi che era marketing se non sbaglio però quello che farebbe essere consiglio di marketing consiglio per scopare insieme insieme proprio legati interconnessi CEO lover Academy CEO lover una volta che inizi a penetrarla con le dita non fare no no penetrarla con le dita voglio sapere non so nulla con la mossa della forbice sono un gobelino ma il tizio che parla vabbè come volete voi no proprio 10 secondi per la mossa della forbice con un lugubre verme marcio esci con le dita appena appena all'esterno non fuori appena appena all'esterno e allarga e chiudi l'indice e il medio ma non ho mai sentito questa appena all'esterno Marco vabbè prova Marco devo dire che questa è interessante è di appunti è di appunti come un movimento a forbice prima appena all'esterno come detto e poi all'esterno stuzzicandole le grandi labbra tre ritmo e quantità il ritmo è molto importante quando stai donne confermate una cazzata provi a ragionare quando sono loro a smanettare te le più brave sono quelle che modulano il ritmo senza che tu le chieda come lo vuoi sanno ascoltarti la stessa cosa la devi fare tu il ritmo è molto importante non puoi partire a 3000 se la ragazza non è sufficientemente eccitata stai letteralmente saltando i passaggi capisci il ritmo ascoltando il suo respiro il modo che ha di baciarti toccarti Alice sto leggendo un sacco di donne che stiano una cazzata ma magari boh ma perché non l'hanno mai provata sto dicendo in realtà cose pienamente condivisibili vaghe alcune banali ma non sbagliare nel senso che vuol dire devi stare attento al ritmo beh sì ovviamente sì lo stesso esempio della sega certo però vabbè facciamo un video di due minuti ma che deve dire cioè per poi andare più veloce inserendo un secondo dito due è il numero vincente non tre quattro cinque dieci questo me lo disse proprio una ex anni fa quattro il contorno è importante guardarla senza baciarla mentre lo fai eccita ancora di più e ti rende anche se così vogliamo molto più sicuro è affascinante i suoi occhi idem smettere di farle tornare semplicemente al punto uno il gioco dell'intermittenza special inizio è sempre un'ottima cosa c'è stanno un sacco di cose che non ha detto c'è stanno le vaginali c'è stanno le clitoridee c'è stanno la cosa che vai proprio sotto e fai così c'è la famosa mossa all'antica all'antica passo nel culo e bocca nella figa esatto più le ditine per la termelone per far squirtà che ti metta la mano dentro questo è interessante però ragazzi è la piaga sociale dei morti di figa che vanno all'Eikma per farsi le foto con le ragazze a Dovan che cazzo è una roba tipo dove c'è stanno le tizie in moto all'Eikma il Monk è diventato guarda che top non è la roba non è la roba motociclistica dove c'è stanno quelle vallette con gli ombrellini non l'ho mai sentito Eikma non te saprei dire vediamo è quello fiera internazionale l'urno di Monk moto ok ogni anno occhio qua ogni anno a novembre ogni anno a novembre accade sempre la solita pagliacciata ma che a noi fa tanto ridere a Milano si tiene un evento chiamato Eikma sulla carta è un evento dedicato agli appassionati di motori ma addentrandoci addentrandoti c'è molto di più ho tantissime amiche modelle che hanno lavorato nell'ultimo evento di qualche settimana fa l'Eikma quindi so di cosa parlo e cosa accade accade che orde di uomini marci che non hanno la benché minima idea di ho tantissime amiche modelle ho tanti amici gay sono da letto con 3000 donne ho tante amiche modelle mi insegno a rimorchiare no ma basta basta andiamo avanti anche Rubino ha tante amiche modelle sì appunto come scrivono in chat fattualmente appunto capito nel senso magari anche lui col suo lavoro molte ragazze che compaiono nei video presumo possano essere modelle sì sì sono top amici vanno la sera al pub si chiamano io penso che se le era già rimorchiate prima di aprire si collaboraccia quel lavoro questo mi esprimo sinceramente comunque io sono una modella e sono amica sua sì no infatti sbugiardato scusate con una donna vanno a questi eventi come tante mucche al pascolo si mettono in fila per fare la foto con la gna gna di turno gna gna a me ria faccio la fica faccio la foto che bello voi vi mettete in fila per fare la foto con una ragazza a foto a foto a fica motivo per metterla sui social sulle storie farla vedere agli amici farla vedere agli amici no le persone far vedere che una ragazza ha avuto il coraggio di toccarvi nella foto avete un sito ha fatto una foto con una ragazza gente che parla con delle donne cioè c'hanno un sito intero per vantarsi ho parlato con una donna pepiano per culo quelli che c'ha messito dove mettono le foto di quelli che sono riusciti a parlare con una donna hai visto ci ha parlato però c'è una differenza quelle sono pagate per farsi quelle foto quelle all'elkma eh no no vabbè ho capito comunque è credibile quelle nelle foto sono i frutti del duro lavoro del duro lavoro eh ragazzi eh bene bene attenzione il sudore non ci avevo pensato comunque poi pure qui è vero con la differenza che appunto sono donne che magari sono in giro per strada e nemmeno le potresti riprendere però vabbè viene oscurata il volto sì sì vabbè poi pure sulle chat solitamente applicano censure quindi su quello è easy comunque vabbè poi il flexare o rimorchiato statizia è un po' cringe però sono testimonianze del loro lavoro assolutamente un lavoro un lavoro che potrebbe essere regolamentato non lo so ma comunque massimo rispetto per il lavoro mia amica un cinquantenne si avvicina fa la foto e poi le dice io questa foto poi la stampo la metto in camera di mia figlia e le dico che da grande deve diventare fica come te il livello medio è questo uno zombie land della gnagna dove uomini ma anche ragazzini di 16 fino ai 60 anni quindi anche 30 35 40 anni si aggirano per immortalare i culi e fare le foto con le ombrelline che fuori di lì probabilmente li schiferebbero come quando schifate il limone rancido che avete aperto due settimane fa e si sta decomponendo dentro il frigorifero ora anche io da piccolo 14-15 anni non capivo il motivo del perché tutto questo è sbagliato è sbagliato andare lì è sbagliato mettersi in fila è sbagliato vantarsi è sbagliato postarla ma con il passare del tempo ho collegato 2-3 neuroni e ho cambiato visione fermo restando che io non sono mai andato in questi posti qua andare per collezionare foto di queste ragazze qua assieme ad altri uomini medi è degradante perché unicizzi e reputi inarrivabili in questo caso ragazze che al di fuori di quel contesto sono normalissime ti intossichi la mentalità guarda se io ho 50 anni e c'ho una figlia che cazzo questo discorso non sussiste cioè nel senso vado a fare la foto che ha fregna punto che non sussiste dici? non è una speranza di arrivare a scoparmi la motociclista non è detto Simo sai quanti uomini sposati con figli hanno diverse mire quindi se la scoperebbero uguale se quella c'è stessa vabbè per fortuna io magari c'ho buoni esempi dico solo questo nel senso capita regà insomma non mi sembra una cosa assurda cioè tipo Erchitano è sposato e non lo farebbe mai cioè tu ti faresti la foto con la fregna non c'ho un sessantenne che è sposato da 40 anni ah quindi te scoperesti la fregna ma chi cazzo l'ha detto ho detto non so è un sessantenne che ha sposato da 40 anni infatti ho detto no non ho detto non mi metto però la in bocca Veronica in chat Veronica arriva in chat sempre in questi momenti ciao Veronica ciao Veronica ti controlla confermo la foto di Marco Chitano con un'ombrellina confermo sono l'ombrellina io ho detto una cosa bella ma io non ho 60 anni vabbè no ti ho detto non posso rispondere a nome di tutto il mondo è tuo che te devo dire a nome mio però hai ragione Davide è vero che succedono queste cose vabbè vabbè è che tutti i rapporti è una novità insomma 7 mignotto vabbè te capitano andiamo tutto caso che non impari ad eccellere a saperci fare ti intossichi la mentalità a stare assieme ad altre blatte che gioiscono perché la ragazza di turno ha consentito a fare una foto insieme e li ha anche abbracciati guarda manca ragazzi io su questo non sono in disaccordo anche perché ne parlamo forse ne parlavamo l'altra sera ne parlamo perché Crepaldi fece un post su questo in relazione alle non le ombrelline ma quelle che davano il bacio al vincitore di moto se non sbaglio però effettivamente la domanda di Crepaldi fu ma se questo uomo non gradisse tali attenzioni perché omosessuale perché altri gusti perché semplicemente in quel momento non non aveva nessun tipo di intenzione di ricevere quell'approccio in generale effettivamente queste figure sono un po' fuori dal tempo ormai si sono un po' desuete anacronistiche si perché si tende a andar per scontato che sia una cosa che l'uomo vuole per forza l'interazione ha vinto il premio e ora il bacio della bella fa parte del premio perché qualsiasi uomo vede come premio il bacio di una donna quando abbiamo capito ormai che non è così per forza si si è vista come una cosa paragonabile quasi al denaro c'è nel senso ma che di più di 100 euro ma è scontato quello che ti prendi è una cosa profondamente omofoba perché uno che non vuole imbacionato non è per forza gay ma no l'ho precisato ho messo varie opzioni ho messo varie opzioni era una delle tante uno da per scontato anche che in determinati sport il maschio debba essere per forza etrosessuale come nel calcio no? si si non esiste forse uno al mondo ha fatto outing su questa cosa coming out anzi certo però poi se un uomo etero rifiuta un bacio da una donna bellissima è un gay l'ho detto l'ho detto che ci sono altre implicazioni magari semplicemente non vuole super alfa magari io voglio essere un super alfa e rifiuterei il bacio da una donna e poi la gente mi dice che sono un gay sono dei gretini sei un gay no sei un gay lo dico io comunque raga oddio ecco un video motivazionale adesso abbiamo Iron Man ciao sono Cristian di Playlover l'azienda che ti aiuta a migliorare in ambito sentimentale come lo facciamo? attraverso delle consulenze a distanza che vengono elargite dai nostri coach quindi mediante l'ausilio del telefono di Skype e quant'altro oppure dei corsi in presenza cioè dal vivo tenuti quotidianamente sul suolo italiano principalmente a Roma e a Milano ma su richiesta anche su tutte le altre città ma lo stai dicendo con questo outfit? ah che c'ha di male scherzo io mi vesto del merda è tipo la camicia celeste liberale però con un twist così goliardico ci può stare? io mi vesto a cazzo non ti scherzo e attraverso dei percorsi digitali che registriamo i vestiti poi rendiamo disponibili alla massa tutte queste attività che facciamo a pagamento perché? perché questo è il nostro lavoro ok? di che cosa parliamo oggi? parliamo di come riprendersi dopo la fine di una storia giusto così per inquadrare un po' personaggio ma io vorrei vederlo tutto questo video ok me lo vedrò da solo a casa con un po' di gelato ragazzi buonasera qua c'è un altro contributo buonasera è train oddio c'è l'audio madonna mia come vedete l'atmosfera a Barcellona è già frizzata ragazzi buonasera prima conoscenza dell'ultimo dell'anno fine del cenone come vedete l'atmosfera a Barcellona è già frizzante frizzantissima studente che ha fermato questa ragazza sbagliando la fermata perché è arrivato dal di fianco e non dal di fronte e ora con l'interazione come vedete sta utilizzando molto il linguaggio non verbale sta cercando di recuperare il terreno perso ok vedete che la ragazza comunque piano piano si sta rivolgendo sempre di più verso il ragazzo in realtà no io vedo lui in realtà no quando lui ha fatto il passo avanti l'ha fatto il passetto indietro palesemente l'imbarazzo dritta come uno stecurlino sta una debita a distanza non vedo molta intimità onestamente hanno incontrato solo una persona gentile che sta cercando di capire che cazzo è rigidissima un palo sono riuscita a rivolgere la parola a un essere femminile vediamo magari c'è un plot twist è scontato che l'altra persona non aspetta la fine della conversazione per andarsene sì ma semplicemente magari sta chiedendo un fazzoletto un fazzoletto infallibile ecco qua si commenta da solo commenta da solo cosa ma che stavannato ha detto bene si commenta da solo secondo me è giusto si commenta da solo questa palesemente è una cazzata perché banalmente si capisce che insomma non mi sembra molto propensa i grandi imbarazzati che distanza c'è tra loro poi si rigidisce sempre di più distanza covid e guardate diventa sempre più dritta boom se dobbiamo fare gli analisti della PNL potremmo dire che il piede sinistro della donna è rivolto verso la via di fuga cioè lontano dal perché si dice che dove puntano i piedi è dove noi inconsciamente vorremmo andare quindi se puntano verso una persona ma me l'hanno insegnate queste cose quando feci un corso di un giorno di PNL poi non so se erano cazzate si diceva sta cosa ma pista per piedi programmazione neurolinguistica ok e questo guru diceva che se il piede di una persona punta una via di fuga che può essere la porta oppure la via che continua vuol dire che significa se ne vuole annare probabilmente se proprio dobbiamo fare insomma parlare con i loro termini hai capito l'hai to me tu dubbi no la PNL in realtà non è una cazzata no è un insieme di ovviamente non è tombale però è un insieme di comportamenti non verbali e non solo spesso cioè effettivamente reali percentuali in media si è notato che il corpo involontariamente assume determinate posture per un motivo esatto è un motivo di protezione non è una cazzata ragazzi non è una scienza chiusa non è una scienza esatta ovviamente no siamo alla stregua del test delle personalità non è una scienza esatta ma comunque osserva dei comportamenti umani plausibili ok qua loro che si vantano dello spot papam vediamo un po' Laylover Academy sbarca ufficialmente in tv e lancia il suo primo libro sottolineare all'inizio del post no per andare in tv non basta pagare perché alcuni lo penseranno sarei curioso tra l'altro non basta pagare non basta significa che bisogna beh non è che te mettono un cadizio potresti pure essere chiamato in quanto no ma qua è uno spot però quindi è proprio uno spot non è che sono stati chiamati eccolo è quello di prima che vi ho fatto vedere è una pubblicità nel corso di questi anni ne abbiamo lette e sentite tutti i colori sul web i trainer sono soltanto vostri amici che si fanno intervistare i studenti sono persone che fotografate per strada i baci degli studenti sono tutte situazioni organizzate le ragazze che rispondono sulle dating app le pagate voi Laylover non esiste Laylover fattura meno di 100k all'anno in Laylover lavorano solo Christian e Steve il grado di invenzione che hanno le persone sul web supera di gran lunga la mentalità visionare di Steve Jobs anche per questo motivo ma non solo abbiamo deciso di lanciare il nostro primo libro da un altro palcoscenico le reti televisive Mediaset top alcune precisazioni per il non addetti ai lavori prima di accedere a questo palcoscenico l'azienda viene valutata prima di sottoscrivere qualsiasi proposta contrattuale l'azienda viene controllata che loro siano in regola insomma mi ha messo in dubbio prima di andare in onda il prodotto o servizio proposto deve ricevere un ok da parte del team legale questo per far capire le persone che ancora non ci credono come Playover Academy sia una realtà consolidata nel settore del miglioramento sentimentale in Italia non sono sempre giovignoni ma dati di fatto ma in realtà tante pubblicità sono state rimosse qua va precisata una cosa però che tu stai a posto dal punto di vista legale e come azienda non comporta che il tuo servizio sia ottimale e che soprattutto possa effettivamente servire o essere utile assolutamente quindi sono due cose diverse tra l'altro non è vero perché tantissime pubblicità sono state rimosse una me la ricordo molto bene che era sponsorizzata da tantissimi volti della tv gran sole ve lo ricordate quella specie di sorbetto in una vaschetta che era una merda poi in realtà era tutto liquido venne rimosso per motivi diciamo di salute e lo pubblicizzò Gerry Scotti cerchiamo un greve un mare grande soleire soleire quello che era venne rimosso dal commercio si collaborò con loro no no che con loro no ho fatto l'esempio di uno spot televisivo appunto che è stato alimentato da tanti ma poi è stato rimosso di prodotto avallato in primis e poi rimosso successivamente esatto quindi quello che dicono loro se vai in tv hai il bollino di qualità non è vero non è vero ovviamente a striscia la notizia media media alla fine di un buon pasto pesce e pasta con il pesto c'è rimasto solo un posto ma quel posto è prenotato da un dessert che va agitato e di seguito nel freezer congelato era il nettare degli dèi e per questo fu tolto dal mercato era troppo potente era troppo forte come ricordavo Gianni Scotti no vabbè comunque era un esempio stasera vedremo Povia che ha scoperto la cura per il covid grande Povia non avevo dubbi che prima o poi proprio Povia sarebbe riuscita a salvare il mondo se il servizio proposto non funzionasse non saremmo in tv abbiamo visto che non è vero se l'azienda non fosse seria non sarebbe stata approvata se fosse tutta riafritta lo studio delle gare non avrebbe dato alcun parere positivo nessuno del settore del miglioramento sentimentale si era mai spinto sino a questo livello ed anche qui abbiamo voluto essere i pionieri in veste di azienda che innova e si rinnova costantemente basta osservare tutti i lanci di nuovi prodotti e servizi grazie Stefano grazie abbiamo voluto testare anche questo terreno passiamo ora al libro non ce ne frega un cazzo del libro allora youtuber eleganti che sembrano pedofili c'è entrato anche Davide da oggi anche Twitch finalmente così finalmente sono dentro a proposito di Pepo che abbiamo visto prima grande Pepo in voiceover da ciccio gamer fa troppo ridere questa clip la ragosta la ragosta versus Pepo il paguro comunque si valla a mettere nel frigo effettivamente piano però papi perché ti giuro passa e salta papi uccidete quel povero animale cazzo non fatelo soffrire questo non buttatelo per terra però molte ragoste vengono servite così anche ai ristoranti dico si si tu le vengono vive fino a poco questa cosa è greve piuttosto che giocarci per fargli scemi urlare come scimmie un essere vivente vabbè non penso sia voluto è content quando vai al ristorante si per carità quando vai al ristorante le ragoste so vive quando vai al ristorante stanno nell'acquario lo chef le prende le porta lì e le uccide immediatamente non è che ci gioca e ulla fai tiktok no no questo è un trattamento sbagliato di un essere vivente spesso si muovono pure a tavola allora io sono massimo esperto di questa cosa di uccisioni umane di seafood di crostacei e quant'altro c'è un modo specifico per uccidere ormai consolidato per uccidere l'aragosta gli spacca la capoccia tu prendi un coltello glielo metti qua e con un movimento secco quindi morte istantanea gli dai la testa a metà così e ci stanno proprio i video su youtube che spiegano come si fa questo è un metodo etico indubbiamente quello che si usano nei ristoranti che solitamente vengono bullite vive quello è si faceva prima insomma è stato decretato come un metodo fallimentare non etico su questo sto d'accordo anche perché la carne viene peggio cioè il sapore sarà peggio quindi è consigliato anche a livello di gourmet ok perché di ucciderli in quel modo là perché non se ne accorgono bollendoli vivi secernono un ormone l'ormone della paura o comunque dello stress che fa porti solo non mi ricordo mi si chiama però forse sì molto probabilmente sì che dà alla carne un sapore peggiore anche perché muoiono bolliti vivi quindi spaventati in preda a dolori atroci il modo migliore è quello là del coltello perché distruggi il cervello in un nanosecondo poi il fatto che si muova ancora ma però sono morte hai capito? sì sotto quegli ultimi spasmi check chef Maurizio check chef Maurizio questa è viva e tre non so due youtuber corpulenti ci stanno giocando urlando come scimmie è una cosa che mi ha dato fastidio cercate di nuotare quella no ma c'ha no ma c'ha ragione Simone comunque su sta tecnica d'accordo quello che ho visto io anche quest'estate tra l'altro in diversi ristoranti sono vive e le portano in tavola ancora vive greve e come le uccidono le mani vive sono praticamente sì te le mangi vive e questo non va bene che so vive dove stavo mi sa riccione proprio gli altri magari sono morte e ancora c'hanno gli ultimi spasmini però sono morte però li sono morte non è un problema sì sì che le mangi ancora vive non si può fare perché sia violenza contro gli animali tipo in Corea lo fanno però magari te le portano al tavolo per far vedere che so vive stanno bene e poi te le vanno a cucinare anche sì poi sì comunque c'è ragione su questo e hanno pure precisato una cosa che effettivamente avevo letto se non sbaglio poi correggetemi che effettivamente in Europa è vietata questa pratica certo dell'ebollizione in vita poi molti lo fanno ancora ovviamente ma niente la viva sia contro una legge se è bastrano sì sì la cosa che so io è che comunque nel senso sì sì tipo che ne so le vongole le cozzole le cozzole le cozzole ah beh sì però le ostriche le ostriche ok cioè vive oddio le aprono ci mettono il limone in teoria muoiono in quel momento però ma le vongole le cozzole le devi bollire e muoiono se no mica si aprono ma non si aprono le cozze vive le cozze vongole ah ecco i cannoli come cazzo si chiamano i cannolicchi anche quelli si cuociano i cannolicchi mi sono maniati l'altro giorno crudi pure i vermi è certo alcuni vermi assolutamente alcuni vermi comunque la cosa che è stata di tenere in vita di solito quando è di qualità la ammazzano prima che te la servono non è che mi sembra strano la portano viva si te la portano viva infatti molti posti le tengono tipo dentro le vasche c'hanno ste vasche tu la scegli te la prendono fanno come a te e tu Simone te la fanno e te la portano a meno che non te la portano a casa te la danno viva però poi sta a te trattare un essere vivente come meglio credi non è questo il meglio credi si al mercato del pesce le puoi prendere vive tranquillamente la voglia come in questo caso le anguille pure le ammazzate no per esempio c'è il quel formaggio sardo il formaggio sardo con i vermi si si schifo no ma marzo il caso marzo è stato decretato illegale si lo so però in Sardegna qualcuno quest'estate si lo trovavo nei si 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 nei nei carretti diciamo ambulanti perché si fa letteralmente facendo marcire il formaggio con dei vermi specifici e te mangi i vermi vivi si si è una specialità è pericoloso a livello di salute ma che schifo ma io non me lo mangio ne manco se me pagano lo sai che me lo so ho mangiato ed è buonissimo con i vermi non quest'anno ai torti tanti anni fa ma i vermi c'è stanno ho mangiato tipo dieci anni fa era buonissimo si può vendere con i vermi tu hai mangiato i vermi dicono che i vermi sanno dei formaggi come cazzo fai ma non lo sapevi lo sapevi se tu in quel momento sapevi che io mi sto mangiando un vermi perché sono stracolmi di formaggio pensi i vermi che se lo mangiano questi cazzi ma scusa mo metti la cioccolata sulla merda io non l'ho mai mangiato ma che discorso è c'è il formaggio non lo so io me lo ricordo guarda dieci anni fa circa sempre in Sardegna do un ricordo veramente splendido molto forte cioè proprio pochissimo ne mangiai pochissimo tra l'altro non ebbi problemi a mangiare i vermi per colpa di timone e pumba voglio fare come timone e pumba che se mangiavano proprio gli insetti questi vermi zuccolente croccante quanti erano quanti erano grossi questi vermi mi ricordo erano piccolini erano molto fini ah ok comunque pure di per gorgonzola a fine è muffa è muffa quindi pure quella dici che te mangia la muffa però è buona comunque si ufficialmente adesso è legale questo lo so ma regate non l'ho mai mangiato c'ho la fobia per i vermi e roba del genere pensa in Thailandia si mangiano i cavalletti fritte come le patatine ah vabbè se prendiamo l'esempio dell'Asia ci sono certe nazioni o certi paesi dove vabbè l'abbiamo visti tutti i mukbang dove si mangiano i kraken vivi ci sono anche video orribili anche porno sì sì perché su youtube trovate è un mio fetiche ve l'ho già detto sia i video dove li uccidono umanamente sia purtroppo quelli dove li uccidono in modi orribili pure gente che se porta il pesce i costaci a casa e non sa come ucciderli e quindi fa tutto un casino una delle cose più orribili che ho visto nella mia vita un canale che non so se esiste ancora di un tizio non mi ricordo in quale paese del mondo ma chi? quello che metta roba dentro i buchi vero? nelle tane dei serpenti faceva una sorta di mix tra varie coca cola e mentos e faceva tutta terribile me li so visti una cosa atroce c'erano delle tane di serpenti con le uova tra l'altro oracci e questo riempiva le tane che erano molto profonde erano delle buche essenzialmente con coca cola mentos fanta faceva proprio un mix e questi ovviamente scappavano ma morenti perché capirei tutta quella roba tossica uccidendo pure le uova ho letto che però quello era una persona adibita alla disinfestazione sì quindi è un metodo che usano però un po' dei cazzo sì ma non solo per i serpenti perché era virale quel periodo mentos e coca cola quindi animali pure pure dei punti dove uscivano tipo pure una marea di pesce ma la cosa terribile è che lui godeva come un riccio era terribile rideva quando tirava fuori i serpenti mi accappava con le mani faccia così in testa è una cosa schifosa veramente veramente non sono sentito male non ce l'ho fatta andavanti l'ho visto fino a un certo punto poi ho stoppato perché escono cioè tu dal buco infili quella roba e quelli in pratica per fuggire escono fuori dal buco e tu vedevi pesci e altre roba che facevano proprio così uscivano fuori tipo a cascata perché non respirano più capito sotto però così vanno fuori intere bottiglie da due litri di quelle sostanze ah merda col mentos una marea di mentos si 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 proprio svuotava e tu vedi proprio tipo i no si li ho visti quei video come no pesante mentos veramente palesemente uno psicopatico cioè e beh si 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 non portava da psicopatico porca puttana godi nella sofferenza di esseri viventi cioè è una cosa assurda ma perché lui era concio mi sa del content che faceva cioè che era virale ah si avevano milioni di visualizzazioni lo sapeva rideva pure per quello si 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 ragazzi ci vediamo stasera ci vediamo stasera per il continuo di questa avventura perpetua che è il cerbero podcast e scopriremo anche la cura per il covid in diretta reaction al video di Povia come ho curato il covid ha curato proprio il covid cioè ha curato il covid sono trepidante ora sta bene ora sta bene il covid a stasera ragazzi ciao 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 Croccian! Questa è la prova! Accensione! Buon appetito, Svetlano! Svetlano! Siamo assurda Siamo assurda Siamo assurda Siamo assurda